Gennaro Borrelli, classe 2000, prima convocazione con il Pescara, arrivi con un bel bigliettino da visita, 16 gol segnati in primavera. Manca mancuso, chissà. Sono molto felice di questa convocazione, diciamo un premio per tutti i sacrifici che ho fatto e sono davvero contento. Poi chissà, speriamo bene. 16 gol non si fanno per caso con una primavera? Sì, è il frutto del lavoro di tanti anni, infatti voglio ringraziare tutti i mister che ho avuto e anche i miei compagni che mi mettono in condizione di far gol. Quindi è il frutto di tanto lavoro nel corso degli anni e adesso sta uscendo fuori questo lavoro. Dalla struttura fisica credo che la risposta sia scontata, però per chi non ti conoscesse, le tue caratteristiche tecniche? Diciamo che il mio colpo preferito è il colpo di testa, infatti ho fatto per lo più gol di testa quest'anno. Attaccante classico, attaccante centrale? Sì. Niente, sono un po' emozionato perché è la prima convocazione. Però niente, anche il tiro da fuori è una mia caratteristica, però devo migliorare ancora sotto molti aspetti. Chiudiamo così, tu arrivi da Napoli, sei cresciuto con quale idolo come numero 9? Il calciatore al quale mi ispiro di più è Geko della Roma, però le persone mi paragonano anche a Toni e proprio a Caracciolo. In bocca al lupo e chissà? Speriamo bene, Crepi.